Grazie a tutti. In compagnia mia, che sono Riccardo Cristiano, c'è Federico Cerminara che adesso, da poco, è diventato il presidente del centro di iniziativa locale per la Calabria a certi diritti. Ti salutiamo Federico. Salve, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto ti vorrei chiedere, dopo naturalmente averti detto come hai trascorso l'estate, se ci sono stati dei fermenti, visto che so che ti sei ritirato a Verzino per nuove avventure che si svolgeranno da qui a breve o già si stanno forse svolgendo all'interno dell'associazione. Come mai è nata quest'idea di fondare un centro di iniziativa locale dell'associazione certi diritti? Io vengo dall'esperienza della militanza che è iniziata proprio all'interno dell'Arcichei che in Calabria abbiamo per l'appunto fondato. E mi sono reso conto che, dati i tempi, è indispensabile avere una visione più ampia di quelle che sono le battaglie civili, andando ad inglobare non solo le tematiche proprie della comunità gay, lesbo, transgender, asterisco, ma andando a collocare queste battaglie in un quadro più ampio che consenta di inquadrarle proprio in una ottica che è diversa da quella usuale dei diritti civili, ovvero quella dei diritti umani. Cioè spostare dai diritti civili ai diritti umani significa spostare l'attenzione dal cittadino alla persona, quindi all'individuo in quanto tale, che sicuramente ha delle peculiarità in quanto omosessuale, in quanto negro, che lo connotano per un particolare aspetto della propria esistenza, ma al di là di questo resta sempre una persona, quindi la necessità di utilizzare delle categorie sociali è una necessità legata ad una comprensione di un fenomeno, non è un'etichetta che viene posta. Allora parlare di diritti umani oggi significa capire questo concetto e declinarlo in tutte le accezioni possibili. Perfetto, io volevo chiederti una cosa, visto che... Prendo il microfono altrimenti non si sente. Visto che hai parlato non soltanto dei diritti delle persone omosessuali, hai parlato anche di persone afroamericane di colore, c'è stata proprio una manifestazione organizzata dall'Associazione Radicale di Certi Diritti quando ancora non era centro di iniziativa locale, comunque organizzata da te, da Marco Marchese e dagli altri iscritti qui in Calabria, proprio in favore del Ministro Chienge. E si parlava di razzismo. Quindi comunque l'associazione si rivolge anche alla tutela di quelle discriminazioni non basate soltanto sull'orientamento sessuale, ma come dicevi tu sulla persona e quindi sulle stesse peculiarità della persona che possono essere anche la razza, possono essere anche la disabilità. Ci vuoi parlare un po' di questa iniziativa, di come si è svolta, se ci sono state delle persone che si sono avvicinate, anche perché diciamo davanti alle scuole è stato, giusto? Abbiamo organizzato questa iniziativa che era un'iniziativa di sensibilizzazione su Corso Mazzini, che è la via principale della città, dove di sabato pomeriggio ci siamo colorati il viso con i colori dell'arcobaleno, a voler significare appunto che c'è una differenziazione semplicemente legata al colore della pelle, ma questo non influisce assolutamente, non ha un'attribuzione di valore, è semplicemente un carattere ascritto il colore della pelle, ma questo non cambia assolutamente la considerazione delle persone. Ovviamente la Calabria, anche per la posizione strategica che occupa, è meta del fenomeno migratorio che parte soprattutto dalle coste africane, da quei paesi dove ci sono problemi anche legati di natura prettamente politica. Allora è importante promuovere una cultura della integrazione, a me non piace utilizzare il termine inclusione, lo ripeto spesso, perché inclusione mi dà la sensazione di un movimento unidirezionale, mentre l'integrazione per me rappresenta uno scambio di cultura, perché sicuramente noi possiamo, ovviamente siamo il popolo ospitante e in quanto tale abbiamo un ordinamento giuridico che deve essere recepito anche dai migranti, ma questo riguarda solo l'aspetto prettamente giuridico. Dal punto di vista culturale invece, io reputo che ci possa essere uno scambio di culture e di tradizioni che non può creare altro che un arricchimento anche per la cultura ospitante. Quindi la prospettiva dell'integrazione è bidirezionale, perché è un processo di osmosi che si crea in ambo le direzioni. Federico, un'altra domanda. Sappiamo che in questo periodo è in corso la campagna referendaria promossa dai radicali. Ci sono vari temi, tra cui quello dei nuovi diritti umani, visto che tu parlavi poco fa di diritti umani, e per la giustizia giusta. Lo slogan è cambiamo noi, il cambiamento siamo noi. Quanto è importante per le persone andare a votare e soprattutto quanto è importante, visto che parlavi di diritti umani, il concetto che c'è ancora oggi di possibilità di cambiare delle leggi che magari sono leggi sbagliate e che non si rivolgono assolutamente al cittadino, ma anzi remano contro il cittadino? Il concetto fondamentale è promuovere innanzitutto lo strumento, il referendum, che è uno strumento di massima democrazia del nostro ordinamento giuridico, laddove negli ultimi tempi sembra che molte decisioni politiche ci siano state calate dall'alto o dall'alto delle istituzioni o dall'alto dell'Unione Europea quasi come una forma di cessione della sovranità popolare che io reputo in questa fase un po' eccessiva per usare un eufemismo o addirittura, come altri sostengono, per il tramite di poteri forti e occulti che sembrano andare a manipolare quelle che sono le vite di alcuni stati determinandole e condizionandole a modi semplici pedine. Quindi un'associazione che promuove già di per sé il referendum è un'associazione democratica. Riguardo ai temi, io reputo che l'unico referendum sul quale mi sento di fare una sottolineatura è quello relativo alla responsabilità dei magistrati. In questo periodo storico credo che possa essere letto come un argine verso il lavoro della magistratura. Un attacco praticamente alla magistratura. Come per dire ridimensionatevi nel vostro potere. La responsabilità di chi opera in qualunque ambito dovrebbe essere automatica perché come esiste la responsabilità dei magistrati credo che ci sia una responsabilità che tuttora in Italia non è assolutamente sancita che è quella dei medici. Se i magistrati rovinano tra virgolette la vita delle persone quando il loro giudizio non è congruo figuriamoci che la vita delle persone talvolta la sopprime completamente e non ne paga le conseguenze. Quindi io sono favorevole sul concetto della responsabilità come principio che addirittura reputo vada estesa a tutte le categorie professionali perché ognuno ha delle responsabilità. Per quanto riguarda la magistratura io ho piena stima del lavoro che molti magistrati fanno e a me viene la pelle d'oca ogni qualvolta vedo i video delle stragi che hanno portato all'uccisione di Falcone e Borsellino e mi vengono i brividi perché ho il sospetto che in quella fase storica lo Stato sia stato assente. Ancora la situazione è poco chiara, non ci sono delle prove però già solo il sospetto che queste persone che credevano fortemente nel senso dello Stato e che erano consapevoli dei rischi che correvano siano state abbandonate perché quell'attacco è stato sì causato dalla mafia ma se la mafia ha avuto tutto quel potere è perché lo Stato in quella fase storica era assente quindi per me la magistratura attualmente rappresenta l'unica vera forma di garanzia di questo Paese laddove il potere legislativo e quello esecutivo ultimamente è precario e talvolta assente soprattutto nella tutela di alcuni diritti. Senti Federico, visto che parlavamo del caso Italia c'è un altro caso abbastanza grosso che è il caso Russia perché come sappiamo Putin, comunque lo Stato russo persegue le persone transgender, le persone gay, le persone lesbiche che manifestano liberamente il proprio dissenso contro le persecuzioni che avvengono quotidianamente in Russia abbiamo avuto addirittura il caso di un attore di una nota serie tv che è Prison Break il protagonista si chiama Wentworth Miller che cosa ha fatto? Ha fatto innanzitutto coming out in maniera spontanea ma ha rifiutato di andare alla manifestazione di San Pietroburgo dove si teneva il festival appunto internazionale del cinema ecco io ti voglio chiedere innanzitutto cosa pensi della situazione russa attualmente se l'Italia debba o comunque possa fare di più per arginare questa situazione di assenza di diritti civili e soprattutto cosa pensi allo stesso tempo di personaggi pubblici che decidono di fare coming out liberamente magari per dare la possibilità anche ad altri di fare la stessa cosa e quindi sentirsi meno soli? Innanzitutto l'atteggiamento dell'Italia rispetto al governo italiano rispetto alla questione russa mi sembra affine a quello che tenne tempo fa il Vaticano rispetto alla moratoria contro la pena di morte in alcuni paesi dove le persone omosessuali venivano uccise abbiamo un ministero degli esteri che dovrebbe attivarsi di intervenire rispetto ai rapporti internazionali rispetto a questa tematica perché l'Italia comunque rifugge e condanna tutte quelle situazioni che producono la morte perché è un paese dove la vita ha un valore inestimabile pertanto mi stranisce come un paese che ha un sistema valoriale basato proprio sull'importanza della vita non intervenga rispetto ad una vera e propria persecuzione cioè in Russia attualmente gli omosessuali non solo non vengono tutelati ma la politica che il governo sta attuando autorizza legittima chiunque ad attuare delle azioni proprio di violenza fisica che talvolta arrivano proprio all'uccisione delle persone omosessuali quindi è evidente che il governo italiano dovrebbe intervenire di più quanto al coming out dell'attore sopra citato ammiro e sicuramente ammiro sia l'attore in sé che l'iniziativa l'unica nota e sottolineatura perché io sono uno di quelli attento alle parole è stato un commento che leggevo riguardo proprio a come la notizia è stata riportata qualcuno scriveva l'attore maschio, macio sottolineando una connotazione che ingabbia l'omosessualità in un immaginario che è predeterminato lo stereotipo un po' il chino diciamo della checca, un po' del gay e femminato esattamente allora abbiamo ovviamente omosessuali maci, abbiamo omosessuali meno maci e ritorniamo a quel concetto di prima che abbiamo l'individuo e ognuno costruisce la propria identità e declina il proprio orientamento in base a tutta una serie di variabili ambientali, familiari, culturali che lo caratterizzano quindi attenzione a chi pensa che bisogna proporre un modello di omosessualità normata o normativa perché questo va al di là del principio di tutela di ogni forma di discriminazione quindi sicuramente che l'attore che ha fatto il coming out sia un bell'attore sia a maggio ben venga ma chi aveva scritto l'articolo aveva fatto questa sottolineatura che a me risulta sempre di poco gusto quando si cerca di attribuire un carattere ascritto ad un orientamento Perfetto, grazie Federico Io adesso voglio informare i nostri amici web ascoltatori perché se ancora non lo sapessero esiste in Calabria quest'estate da poco è nato un osservatorio sulle politiche di genere di pari opportunità che è frutto di una collaborazione tra certi diritti Calabria in questo caso l'osservatorio nel centro di iniziativa locale e la CGL di Catanzaro e come sappiamo gli artefici oltre a Giuseppe Valentino della CGL di Catanzaro sono Federico Cerminara e Marco Marchese avendo qui la possibilità di parlare con Federico Cerminara presidente del centro di iniziativa locale io approfitto per chiederti come mai è nato questo osservatorio cosa si propone di fare visto come dicevamo all'inizio che hai molta esperienza in merito e questo è un valore aggiunto che l'osservatorio sicuramente potrà beneficiare Allora, l'idea di un osservatorio sulle pari opportunità e politiche di genere in realtà è un progetto che io mi porto nel cuore da quando ero all'epoca componente della commissione pari opportunità istituita presso il comune di Rende contestualmente al mio incarico di presidente allora dell'Eostracichei Calabria questo osservatorio è diventato concreto che ha preso vita quest'estate ad opera del centro di iniziativa locale certi diritti Calabria ma in particolare ad opera di Marco Marchese che ancora prima della costituzione del centro di iniziativa locale aveva avuto modo di intessere una serie di rapporti con la CGL di Catanzaro quindi le cose non nascono così dal nulla nascono perché dietro ci sono dei progetti che hanno una storia hanno anni di lavoro alle spalle e si concretizzano questi progetti quando esiste un humus un terreno fertile che fa in modo che le idee diventino degli strumenti concreti di valorizzazione e di cambiamento del territorio perché l'osservatorio altro non è che uno strumento a disposizione di tutto il territorio calabrese al quale si possono rivolgere tutte le persone che sono vittime di discriminazione legate all'orientamento sessuale piuttosto che all'identità di genere ma oltre a questa funzione proprio di tutela delle persone vittime di discriminazione l'osservatorio ha anche una funzione di monitoraggio del territorio una funzione di studio perché si crea un feedback rispetto alle esperienze ovviamente l'osservatorio è uno strumento che è stato sancito dal centro di iniziativa locale i certi diritti Calabria ma è uno strumento aperto perché all'osservatorio ed esiste un protocollo di intesa sottoscritto e visibile anche sul web il protocollo di intesa prevede che anche altre associazioni che operano nell'ambito delle pari opportunità e politiche di genere possano diventare una sorta di sensori sul territorio ovviamente anche nell'ambito dell'osservatorio mi preme precisare che l'associazione certi diritti proprio in virtù dell'organigramma che si è dato vede delle funzioni distinte e separate perché tutto ciò che attiene alla sfera prettamente politica dell'associazione per la struttura che l'associazione di certi diritti ha è di competenza del segretario nella fattispecie Marco Marchese quindi è un po' una struttura invertita rispetto alle altre associazioni per cui la persona che curerà di fatto le relazioni con le altre associazioni è il segretario io mi occuperò della parte culturale progettuale perché proprio per il lavoro che faccio il mio know-how mi porta a lavorare su questi ambiti questo è un chiarimento generale che mi preme fare perché talvolta quando uno dice sei tu il presidente nelle altre associazioni è il presidente che ha una funzione di rappresentanza legale nella certi diritti è il segretario perfetto a questo punto il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato però io ti invito a venire altre volte in trasmissione innanzitutto per sapere qual è l'evoluzione non solo del centro di iniziativa locale certi diritti per la Calabria ma anche le novità in merito all'osservatorio sulle pari opportunità e poi vorrei dare ai nostri amici web ascoltatori la possibilità di rivolgersi a te a Marco perché le discriminazioni come tu spiegavi prima avvengono anche sul luogo di lavoro possono dipendere da una questione meramente oggettiva ad esempio una persona che è disabile o una persona che è magari di un'altra nazionalità quindi io credo che sia importante dare questi riferimenti e li daremo alla fine del video lasceremo sia la pagina facebook perché so che c'è la pagina facebook il sito internet sia del centro di iniziativa locale di certi diritti per la Calabria che dell'osservatorio sulle pari opportunità e comunque sia ci sei tu su facebook hai un numero di cellulare e comunque una mail penso che sia disponibile anche questo sul web ed eventualmente qualcuno ti volesse contattare per chiederti direttamente notizie o anche di aderire perché penso che sia un'associazione di volontari alla fine nessuno delle due associazioni è pagato giusto? senza fini di lucro senza fini di lucro ecco quindi a questo punto io ringrazio te per il tempo che ci hai dedicato cedo la linea alla regia e soprattutto vi ricordo che entrambe le associazioni non essendo essendo senza scopo di lucro hanno bisogno di sostegno economico e quindi chi volesse sostenere anche economicamente l'associazione lo può fare visitando le rispettive pagine web o pagine facebook per aderire anche con un piccolo contributo e sostenere quindi queste battaglie di civiltà laicità e dicevamo prima di uguaglianza grazie a te Federico per il tempo che ci hai dedicato e speriamo di rivederti presto grazie dell'opportunità è sempre un piacere poter parlare dello stato dell'arte di pari opportunità e diritti umani prima ancora che civili e speriamo di vederci presto con delle novità perché come dicevi prima la vacanza rigenerante a Verzino è sempre fuoriera poi di notizie progetti e novità per il nuovo anno grazie ancora Federico a presto buona serata grazie a tutti